Ciao ragazzi, vi piacciono i Lego? Sì? Allora venite con me! Sì? Allora venite con me! Allora abbiamo qualche problema, dobbiamo aiutare Leonardo a scegliere un Lego, guardate quanti ce n'è! Non lo sappiamo! Ce l'abbiamo fatta! Qual hai scelto? Dopo un'ora di scelta ce l'abbiamo fatta, però non c'erano dei Lego che mi piacevano di più! Quindi vuol dire che in confronto gli altri erano tutti brutti? No! Erano tutti bellissimi, però non sapevo quale scegliere e ho scelto questo! Bellissimo! No! 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 Vlog alla meraviglia! Leonardo Di, con Mauro e Trici, ci danno tanta allegria, c'è la simpatia, nei video di Leonardo Di.